Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, questa volta si viene a riparlare di Magic perchè è stato annunciato il Secret Lair con la Marvel io in realtà sono abbastanza deluso perchè pensavo che la collaborazione fosse un 7 perchè io mi ricordo che c'era un Universe Beyond forse ci sono entrambi ma a questo punto credo proprio di no questo non lo so però al momento sono stati rivelati i Secret Lair per quanto riguarda la Marvel prima di iniziare come sempre ragazzi invito a scrivere il nostro canale per avere sempre aggiornati ricordo che l'iscrizione c'era tantissimo, io vi ringrazio e andiamo a vedere un attimino che cosa ci sono in questi, che cosa c'è in questo Secret Lair insomma allora abbiamo, vabbè, Heart Mightiest Emblem vabbè che è in sostanza l'Arcane Signet che viene regalato ogni 99 dollari ah no ogni 199 dollari di spesa, mamma mia no se lo prendi in singolo pezzo lo paghi anche di meno andiamo a vedere un attimino allora Black Panther è bianco verde, molto bellino attacca improvviso Sorvete Realm quando lui un'altra creatura entra nel capo di battaglia mette il segnalino più uno più uno su una target land a costo 3 muovi tutti i segnalini più uno più uno su una landa su una creatura se uno più segnalini vengono immossi in questo modo guadagniamo altrettanti punti vita e peschiamo una carta che effettivamente in un bianco verde i segnalini sono abbastanza forti anche per quanto riguarda le terre perché effettivamente ci sono tanti mazzi che utilizzano le terre creatura quindi ok Secure the Worstest creiamo X Guerrieri 1-1 Bass Blessing che è Primal Vigor che dovrebbe... no ok no se uno più token stanno per essere creati li raddoppiamo ok se uno più uno più uno stanno per essere messi su una creatura ok li raddoppiamo ok Erochi Intervention i permanenti controlliamo guadagnano X Prof. Indistruttibile Wakanda Skyscraper molto bene Cards Bastion che ci aggiungono un colore 4 tappando prolifera molto bene e la pedina quindi con il Secret Lair della Pantera ne abbiamo queste carte qui 40 dollari non foil 50 dollari foil e queste non mi fanno impazzire per come artwork per effetti ovviamente lui è molto molto forte possono essere utilizzati anche come commander molto probabilmente di 99,9% e ok veniamo Capitano America First Avenger ok through attappando 3 stacchiamo l'equipaggiamento al Capitano America ok fa danno uguale al mana value del equipaggiamento diviso tra 1, 2 o 3 target ok catch all'inizio della combat non so attacchiamo fino a un equipaggiamento a Capitano America ok ci sta ci sta abbastanza perché effettivamente lanci e riprende scudo quindi ci sta come 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 stile tra l'altro anche puoi farci un boros equip però mettendoci anche il blu che potrebbe essere interessante Capitano America cazza head che è quella per le aure e gli equipaggiamenti ok l'incantesimo e aura e equipaggiamenti hanno flash quando entra l'equipaggiamento lo attacchiamo a una gradura che controlliamo senza pagare ovviamente il costo di equipaggiamento che è tantissimo poi è costo una fortissima carta flawless maneuver si il mio inglese fa schifo se controlliamo il commander la castiamo senza pagare il costo creatore controlliamo con un indistruttibile ok nelle trincelle le creature prendono più uno più uno tappando sei esiliamo un permanente non terra che non controlliamo sotto a questo incantesimo finché non lascia il campo di battaglia è shield of war and peace sword of war and power la creatura equipaggiata prende 2 più 2 a protezione dal rosso e dal bianco quando la creatura equipaggiata fa danno da battaglia a un giocatore questo equipaggiamento fa danno al giocatore uguale al numero di carte nella sua mano guadagniamo un punto vita per ogni carta nella nostra mano il che è per nulla male perché comunque fai danno da lui a 3 target poi te lo riequippi e mini insomma è proprio molto capitano america molto capitano america stile di gioco mi piace ma le artwork mi lasciano ancora un po' perplesso anche se sono fatte bene assolutamente iron man secret layer iron man izet ci sta izet forse anche un pochino di nero col fatto del demore della bottiglia anche un pochino di nero va bene comunque iron man titan of innovation volare rapidità genius industrialist quando attacca creiamo con 3 sur token poi possiamo sacrificare un artefatto non creatura se lo facciamo cerchiamo nel mazzo un artefatto con costo di mano uguale o uno in più dell'artefatto sacrificato lo buttiamo scampo di battaglia ecco questo fa male questo fa male galvanic blast due danni metalcraft ne fa 4 abbiamo troppi artefatti commander's plate la creatura occupa già davanti più 3 più 3 ha protezione da ogni colore che non è colore dell'identità del comandante equip commander 3 e equip 5 si possiamo fare iron man e capitano america come come commander è interessante effettivamente iron man e capitano america come commander molto molto figo poche carte però molto fighe soul ring ovviamente con il coso nel petto invento sphere terra all'inizio l'app keep se controlliamo troppi artefatti guadagniamo uno aggiungiamo mano in colore tappando 4 e lei la sacrifichiamo per serciare un artefatto lo riveniamo e lo buttiamo nella mano ok attiviamo solo se abbiamo troppi artefatti il treasure token che è la maschera di iron man praticamente a come si come ok no stavo vedendo perché comunque ci sono le 5 carte più il token non che il token toglie spazio una carta è ok per certo 40 dollari sono 5 carte per me è sempre troppo eccessivo per quanto possano essere fighe poi abbiamo tempesta ecco tempesta particolare perché diciamo che non è molto mainstream tra virgolette allora verde blu rosso volare cautela causa le stampers quando fa tanto da combattimento a un giocatore il prossimo instant sorcery che castiamo a storm ok viene copiato per ogni altro ogni altra magia che è stata castata prima in questo turno e scegliamo noi target fulmine storm's will quindi geskai's will scegliamo uno se controliamo il comandante possiamo castarla senza cioè possiamo castarla scegliendo entrambi aggiungiamo uno per ogni carta nella mano dell'avversario degli avversari quindi bene non di un avversario scusate target opponent e siamo tre carte e la mazza lo possiamo possiamo castarla in questo turno ok a stone spacchiamo terra e ororo borealis ok e malamorf aggiungi due peschi uno ok in qualsiasi combinazione di colore e poi c'è wolverine è molto bellina però come artwork wolverine allora arrivale leality raddoppia ogni danno che sta per essere inflitto da wolverine ok all'inizio delle handstep se fa danno da combattimento ad un'altra creatura in questo turno li mettiamo segnano più uno più uno e tappando lo rigeneriamo giustamente meglio di meglio di così effettivamente berserk ok possiamo castarlo soltanto prima della combat damage una gradura guadagna travolgere e più x più zero dove x è la sua forza all'inizio della prossima handstep distruggiamo la gradura che attaccano in questo turno read of passage quando una gradura con danno gli mettiamo segnali più 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 uno con tutti i segnalini ritmo the wild le creature non possono essere counterate un giocatore e le non token creature che controlliamo hanno riot ovvero riot entrano o col segnalino o con rapidità e adamantium bonding tank quando una cadora controlli lascia il campo di battaglia se ha un segnalino mettiamo quel segnalino su adamantium bonding tonk all'inizio della combat del turno se ha counter possiamo rimuovere possiamo muovere tutti i counter su una target creature ok questo è interessante che gli metti tutti i segnalini lo potenzi tantissimo quindi ok queste sono le secret layer ok mi aspettavo forse qualche cosiddetta forse con il fatto che ho letto universe world pensavo magari un set non credevo secret layer forse solo ignoranza mia però insomma voglio dire alcune cose mi piacciono altre un pochino meno quindi insomma forse non lo so mi aspettavo un pochino di più non sono troppo in estasi per questo set sarà che magari non essendo essendo solo secret layer mi fa scendere un pochino l'hype però insomma aspettiamo e vediamo detto questo ragazzi fatemi sapere voi soprattutto cosa pensate ovviamente noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti